Ancora un gesto di solidarietà e attenzione verso i pazienti dell'ospedale Luigi Curto di Polla da parte della Fondazione Montepruno che ha deciso di donare all'ospedale valdianese 13 televisori a LED HD da 32 pollici. La proposta ha ricevuto il parere favorevole dal direttore sanitario del presidio di Polla il quale ha sottolineato l'importanza di tale gesto per la qualità della vita dei pazienti. La direzione del presidio ospedaliero ha quindi confermato la legittimità e la rispondenza tecnica della donazione secondo quanto previsto dalla normativa sulla gestione delle donazioni. Questa donazione rappresenta un significativo esempio di collaborazione tra istituzioni e realtà locali, mirando a promuovere un ambiente più accogliente e umano per chi si trova in condizioni di sofferenza e difficoltà. La Fondazione Montepruno attraverso questa iniziativa dimostra un impegno concreto nel supportare la comunità, riflettendo il valore della solidarietà e della responsabilità sociale che caratterizzano il suo operato. Non è la prima volta che la Fondazione Montepruno e la Banca Montepruno decidono di effettuare importanti donazioni verso realtà territoriali, come l'ospedale di Polla. Alla struttura sanitaria, oltre a donazioni che mirano a rendere più confortevole l'adegenza dei pazienti, la Fondazione e l'Istituto di Credito hanno provveduto a donare anche strumentazioni importanti. Non da ultimo importante sostegno della Fondazione Montepruno, che si è fatta carico dei lavori di realizzazione della Cappella del Nosocomio di Polla. Alla struttura sanitaria, la Fondazione Montepruno, che si è fatta carico dei lavori di realizzazione della Fondazione Montepruno.